non sai proprio cosa fare mila ho un'idea io per te anzi più di un'idea ho preparato alcune sfide molto divertenti sei pronta ok andiamo mila ecco la tua prima sfida sei pronta a fare l'agente segreto si vai bravissima mila sfida numero uno superata ma adesso c'è un'altra sorpresa dall'altra parte della porta vai è la seconda sfida di disegnare con i piedi vediamo un po appoggiati sul cuscinone bravissima olle dai vai hai un'intera tela per disegnare un'opera stupenda con i piedini mi piace tutta la nostra opera da date con i piedi vi consiglio di farcela con voi con i vostri venitori certo e adesso passiamo alla prossima sfida non è finita qua andiamo siamo finiti è un centro estetico si siamo in un centro estetico e queste sono delle belle manine pronte per una manicure avanti coloriamo le unghie come più ti piace ma che belle unghie e dimmi sai contare le dita di queste mani quanti sono due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci fantastico bravissima mila passiamo alla prossima sfida questa è una lavagnetta con la farina esatto e mila scriverà nella farina con l'aiuto di un bel bastoncino ok vai mila brava mila complimenti sfida superatissima e siamo qui alla quinta ed ultima sfida che ci condurrà al premio finale vero mila e guardate qua cosa abbiamo fatto un vero e proprio reticolato di spider man e mila ha un solo percorso esatto per raggiungere il premio sei pronta mila vai e chi lo sa fatto sta che devi camminare sulle strisce e attenzione olleee premio vediamo qua che sta apri piccottini e mi sembra il premio giusto mila dopo tutte queste attività eh cosa ne dici? ragazzi se vi è piaciuto il video e vi sono piaciute le nostre attività pollicione in su e iscrivetevi al nostro canale a presto ciao